Intro Bentornati nell'apocalisse più incredibile di minecraft Quest'oggi la mia base sarà continuamente assaltata da questi zombie ripugnanti Se la farò sopravvivere per un'altra notte? Non lo so, me lo auguro Arriviamo a 30.000 mi piace per un nuovo fantastico video degli zombie, mi raccomando Perché come sappiamo stanno diventando sempre più forti Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo fantastico video di invasione zombie Come state? Io spero tutto bene Siamo ancora qui nella nostra apocalisse preferita E gli zombie non mi danno tregua Salve, salve bruttoni, tutto bene? Oh porca miseria, ce ne sono veramente tantissimi Salve, non vi è bastato l'ultima volta che vi ho distrutto a tutti con la mia spada? Ce ne sono una marea ragazzi, guardate la mia spada quanto cavolo è lunga Cioè una spada così è gigantesca e infatti faccio un sacco di danno Allora, è appena arrivata la notte oppure sta calando la notte? Forse sta calando Sta calando quindi non appena avremmo ucciso tutti i mostri e saremmo riusciti a sopravvivere alla notte Direi di fare un giro di perlustrazione Direi di spostarci un pochettino Salve zombetti Ci sono delle cose lì Una pala e un elmo Quelle cose mi servono Toglietevi dai piedi Toglietevi Allora, mi avete dato un sacco di consigli ragazzi Per aumentare le difese della base Mi avete detto un sacco di cose veramente grazie di cuore Perché grazie a voi io riuscirò a sopravvivere in questa apocalisse zombie E beccatevi questo Maledetti, non avete il cervello Siete così Oh, non salite nelle scale Non provate a salire Dai Beccatevi questo Beccatevi questo Faccio il critico Beccati questo Oh, c'è una spada quello Dai Andate nella lava Vai nella lava Vai nella lava Vai nella lava Vai nella lava Ma hai droppato qualcosa di bello? C'è un sacco di roba lì, eh Proviamo ad andare giù Guardate quanti livelli Cosa mi ha droppato? Nulla Ok Perfetto Allora In uno scorso episodio dell'apocalisse zombie Avevamo creato il mio amico Marci Quest'incredibile casa E sto creando la mia Piantagione di grano E mi sto espandendo Perché ho bisogno di espandermi Perché quei maledetti zombie Non so quando Ma prima o poi mi avete detto che romperanno le cose E io ho veramente paura Non voglio perdere già la base Quindi dobbiamo creare delle difese Allora Visto che giorno Io direi di andare ad esplorare un pochettino Cosa dite? Allora Assegniamoci le coordinate Ok le coordinate sono semplici Meno 100 o meno 200 E fin qua tutto bene no? Ok Allora Metto su un po' di cosine Mi devo muovere Perché il giorno non dura tanto Metto su un po' di cosine Vediamo Diamante Potrei farmi Questi Allora Mi serve assolutamente del cuoio Mi serve assolutamente del cuoio Allora Mettiamo giù tutte queste cose Perfetto Ci possiamo creare qualcosa di carino? Cos'è sta roba? Una rup Una pedana di ossidiana Wow No Per ora no Allora Potremmo anche andare nel nether Però voglio aspettare Voglio aspettare un pochettino Allora Fatemi mettere giù tutto Questo non mi serve Non mi serve Non mi serve Anzi Mi serve Perché mi si sta rompendo quello No No Questo si Si no No Picconi ne abbiamo tanti Questo no Via Ci siamo Cosa può mancare? Del cibo giustamente Ma abbiamo del cibo? Cibo fresco? C'è solo questa carne marcia? Allora Mi servirebbe una freccia Quindi servirebbe Uccidere anche un pollettino Oh povero pollettino Vediamo Che altro? Un po' d'acqua Mettiamo giù questo Io direi che ci abbiamo tutto Altre mele Cioè bella faccia Vuoi uscire senza mele? Eh che cavolo Ok due mele Eh ne vorrei un po' di più però Eh ok Direi di andare La spada gigante si sta rompendo E per questo dobbiamo trovare degli incantesimi Dobbiamo trovare una mucca Moooo Ok Cioè guardate quanto è gigante Cioè è gigantesca questa spada Ok ok bella faccia Ok Fin qui tutto bene Oh T'ho visto Ti ho visto Volevi nasconderti Non si può Non si può nascondere Non ci si può nascondere Muori Ho alzato un pochettino il render Perché non si vedeva assolutamente nulla Allora Animali Mi servono Oh dei lupi Un cinghiale Cinghiale? Ciao Sento dei mostri Cinghiale sei amichevole? Cinghiale? Ciao No Accuccia Cosa droppi? Ok Costoletta di maiale Potrei addomesticare Oh Cuccia Accuccia Anche voi vi mettete a rompere le scatole? Cos'è? Testa di cinghiale? Ok Ok Abbiamo droppato una testa di cinghiale Perfetto C'è un altro qui Vieni piccolino Vieni Cinghialino Ok Dammi un po' di carne Perfetto Sette costolette Potevo anche addomesticarli Magari li lascio in pace Perché potrei creare una farm di cinghiali Potrebbe sempre servirmi Mamma mia Una farm di cinghiali Ma vi immaginate una farm di cinghiali? C'è qualcosa di interessante qua? Altri cinghiali? Qua? Nulla Dai Mi servono delle mucche Per favore Minecraft Delle mucche Delle mucche Non ti chiedo tanto Oh Mucche 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 Ok Allora Alle mucche serve il grano Solamente che Non lo so Le lascio Le lascio vive Però non ho un guinzaglio Come faccio? Vabbè È troppo importante prenderle Mi dispiace Ti prego Droppami No Non mi ha droppato la pelle Cavolo Oh Oh no C'è la nebbia Dai proviamoci Sì Pelle Sì Quattro di pelle Perfetto Ok È veramente buio E beh la faccia non vede un fico secco Quindi teniamo la torcia Mamma mia È veramente inquietante stare qua ragazzi Eh Ok Allora Sinistra o destra Non si vede nulla Ma perché? Ma perché io devo uscire di casa E c'è la nebbia? Se fatemi capire Potrò essere più sfortunato di così? È il mio stomaco che ha fame Pensavo fosse uno zombie Ok Cosa c'è qua? Salve Sento dei passi C'è nessuno? C'è nessuno qua? Sembra abbandonata Sembra che non ci sia Oh Cos'è? Perché sta crollando il pavimento? Oh dei funghi Ok Potremmo quasi quasi fare una farm di funghi Eh Allora Non ho una setta Perfetto Sono uscito Non ho nemmeno una setta Per prendere il legno Bravissimo bella faccia Sei veramente intelligente Oh Grande È tornato il giorno Perfetto Un granchietti Un granchietti appetitosi Venite qua Che bella faccia fame Bella faccia deve sopravvivere Allora vediamo Cos'è là? Cosa mi serviva? La pelle? Il libro? Le canne da zucchero forse? Granchiettini Aio 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 Quanto fate male? Oh E vieni qua E beccati questo Ma non ho mai droppato nulla? Oh Che era di granchio Con queste cose si fa qualcosa di carino eh Ok Per ora Un altro granchietto Però ti lascio in pace dai Sono Misericordia di te Allora Vediamo Io direi che possiamo andare da questa parte Però non c'è nulla ragazzi È tutto desolato Se questi zombie hanno 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 Oh Ciao Ciao piccolino Come stai? Questi zombie hanno annientato la maggior parte degli animali Dei villaggi Non c'è nulla C'è non c'è assolutamente niente Qua si sono gli uccelli È un buon segno Vuol dire che Potrebbe essere Una zona molto tranquilla questa Ci sono degli altri cinghiali lì Sembrano cinghiali Si sono cinghiali bianchi Cinghialetti Ehi 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 Calma Calma Aio Oh Oh Calmatevi Calmatevi un po' Calmatevi un po' Ehi E calmati cinghialetto Dammi un po' di carne che mi serve Grazie mille Perfetto Il nulla Il nulla più totale qua c'è Il nulla cosmico Una cascata Oh Oh Stanno arrivando Stanno arrivando Stanno arrivando Toglietevi dalle sca... Stanno arrivando da tutte le parti Stanno arrivando Aio No, 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 no Sta arrivando la notte Devo seminarli Devo seminarli assolutamente C'era una cascata qua mi sembra Devo andare qua sotto E' l'unica E' l'unica Via Via Stanno arrivando Non vedo nulla Un blocco Oh Ok 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 sono al sicuro Dovrei essere al sicuro Mamma mia Maledetti Maledetti mostri che non siete altro Ok per ora Per ora dovrei essere al sicuro forse Almeno spero Dovrei essere al sicuro Andiamocene Perfetto siamo finiti In una caverna E non ho torce Ok allora un po' di queste cose Le prendo Non li sento Mamma mia Se dovessero arrivare in questo momento Si mette male E' meglio che prendo un po' di legno E mi faccio delle torce Però non ho portato neanche le torce Ma sarà possibile che esco senza le torce Ok dell'oro Spero di trovare Una cesta E' tutto silenzioso E' molto silenzioso Non mi piace Non mi piace per niente Ok Allora Andiamo avanti C'è un sacco di oro Qua sono sotto Comunque sotto la mesa Si trova veramente Tantissimo oro Sono molto fortunato Non ho trovato un pollo Per fare l'arco Quello è indispensabile Oh Stai tranquillo Stai a cuccia Tranquillo dai T'ho visto Sono incastrati Sono anche stupidi Ok E' molto Buio E si vede veramente poco Quando torno a casa Mi faccio Il tavolo degli incantesimi Penso di avere tutti i materiali Semmai si torna a casa Semmai si torna Ok Dei funghi C'è un sacco di oro Ce lo prendiamo tutto Che questo per le mele d'oro E' veramente indispensabile Sento anche dell'acqua Che sia l'entrata di prima Devo stare attento Ok Se hai del legno Potrei farmi delle torce Però non ho l'accetta Ma è possibile Che non mi porto l'accetta Io dico Ok Continuiamo Devo trovare Devo trovare una cesta Ragazzi Li sento Li sento Sono qui Calma Qua c'ero passato Salve Oh no 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 Maledetti ragnacci Ragni velenosi Mamma mia Mi serve una mela Mi serve del cibo Maledetti ragni velenosi Non si voleva proprio Lì non posso passare Rischio troppo Allora Mi dai questa torcia Ogni volta che fai così Comunque è incredibile Che devo mangiare la carne marcia È veramente assurda Questa cosa Ma qua c'ero già passato Bella faccia Ti dimentichi anche Dove passi Allora Devo andare di qua Oro Ci sono un sacco d'oro C'è veramente tantissimo Oro Ok Fammelo prendere tutto Perfetto Dammi 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 Ok Sento dei mostri Li sento eh Allora qua Oh Eccoli Eri tu Ma Ma muori Oh Beccati questo Allora Qua sotto Ci sono delle ragnatele Non vorrei che ci fossero ancora Quei ragni Maledetti Uuu Risorse interessanti qua eh Dovrebbe essere il tin Oh Li sento Li sento Dove sono Li sento Dove sono Dove sono Dove sono Non vorrei che arrivassero qua eh Ok ok Li sto seminando L'importante è che li semino Prendiamo tutte le risorse Più preziosi che possiamo Ok Vicolo cieco Perfetto Oh C'è la luce Oh Stanno arrivando Oh nonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon le scatole, zombie, zombini, zombetti, sono qua, sono qua, sono qua, dai venite, venite qua, se ne avete il coraggio, sono arrabbiatissimi ragazzi, sono veramente arrabbiati, vi distruggo, avete capito, appena mi faccio tutto incantato, vi disintegro, quanti ce ne sono, ce ne sono un sacco, mi sa, vediamo, com'è la situazione, zombie, oh sono lì, sono lì, sono lì, calma bella faccia, occhio, stai attento, allora sono qua, oh mamma mia, devo, devo andarmene di qui, devo andarmene, sono qua, sono qua, sono qua, tranquillo, 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 ci sei, ci sei, ci sei, è tutto ok, guardate quanti ce ne sono qua, ah, maledetto, come osi, come osi, come, come è osato a colpirmi, eh, io però me ne vorrei andare, eh, zomboidy, toglietevi, oh una carota era quella, ve ne andate, dai, via, show, fammi tornare a casa, fammi tornare a casa, dai, show, da dove siete arrivati poi, mi si sta anche rompendo la super spada, oh, no, dai, fatemi uscire di qui, devo uscire, devo uscire, devo uscire assolutamente, non demordono poi, eh, non demordono, cioè, guardate, ok, sembra, sembra libero, sembra libero, provo, allora, c'è del ferro lì, ok, sono riuscito a trovare un'altra via, li ho seminati, si sono un sacco, allora, sento qualcosa qua, oh, si esce per caso? devo trovare una via, ragazzi, mi sono perso, mi sono letteralmente perso qua dentro, oh, asi pazzo sei pazzo per la faccia No spegni 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 no non può finire così non può fin- ho dell'acqua qui oh Eh alla buon ora ma mamma mia no è troppo pericoloso io penso che quasi sia qualcosa devo provare ad uscire dai oh ho sentito qualcosa Dai Fammi andare da qua Cosa ci sarà mai Ok piante Perfetto E poi Salve Oh Ragazzi C'è una porta Ragazzi c'è una porta Ma che cavolo C'è una porta Salve Cobblestone Ho sentito un villager Vi giuro che ho sentito un villager Non si posso credere che sia un villaggio sotterraneo Ragnatele Ragazzi È un villager Ciao Non ci credo Archeologo No grande Ma non è nulla Dai Ma non ci da niente Ah no 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 Ci da ci da ci da Allora Le ossa non le ho Mi dispiace Cappello d'archeologo Diamante Eh ma non le ho tutte queste cose Oh mamma Eh prendo la torsa Grazie eh Cos'è sto blocco qua Cobblestone Un nuovo blocco Ok Eh non mi piace Che ci siano dei ragni qua Non è che ci sono dei ragni qua Carino questo blocco Comunque eh Ma dove cavolo sono finito Un archeologo C'è qua sotto Ma cosa ci fa un archeologo qua Non mi convince Non mi convince per niente Tutta questa storia Qua sopra Teste ragnatele Mamma mia Ah è finita così C'è è finita così Ok Va bene Oh 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 Lupi Siete Siete domestici Siete domestici Lupi Ok ok Oh Bel tacchino Ciao Ciao Scusa Scusami Piume Si Si Mi dispiace Mi dispiace Bel tacchino Uh carne di tacchino Devo mangiare mio cugino Per forza Dove sono finito Scusa scusa Tacchino Però mi servono le piume Grande le piume Ok Ho trovato un nuovo bioma A quanto pare Grande Abbiamo trovato il tacchino Ragazzi Non ci credo E questi fiori qua Cosa danno Niente Sono solo dei fiori Così Ok Perfetto Abbiamo le piume Penso che abbiamo Tutto il necessario Per fare il tavolo Degli incantesimi E quello è buono Cavalli Un cavallo servirebbe Un villaggio Un villaggio Un villaggio Abbiamo trovato un villaggio Perfetto Andiamo a vedere Andiamo a vedere Nel villaggino Che cosa c'è Mi si sta rompendo la spada Occhio eh Sarebbe bello Riuscire Almeno a commerciare Un pochettino Con questi villager Perché gli altri Sono tutti morti Poverini Devo chiuderli questi Devo chiuderli dentro Devo chiuderli dentro le case Allora Avete un po' di cibo Da darmi? Ma certo Che avete il cibo Da darmi Avete delle carote Qua Grazie Grazie per le carote Dammi Dammi tutte le carote Che non ho più voglia Di mangiare carne marcia Allora Delle librerie Mi servirebbero Ciao Cosa scambi? Cosa scambi? Carta Non ce l'ho Mi dispiace Tu? Armaiolo Eh ma io non ho Tutte ste cose Però Un altro Un altro ce n'è Sarà un altro Armaiolo Eh Logico Vediamo Librerie Uuuu Qua dentro Qua dentro Qua dentro Mi dispiace Ti devo chiudere qua Cartografo Grande Allora Queste librerie Mi servono Mio caro Queste librerie Mi servono E te le devo prendere Eh mi dispiace Mi servono Per incantarmi Ok libri Perfetto Grande Grande 21 libri Ottimo Io però Mio caro Ti devo lasciare qua dentro Vuoi entrare anche tu Se entri tu Ti voglio veramente tantissimo bene Dai Entra 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 Bravissimo Lì dentro E restateci Mi raccomando Allora altre cosine Qua dentro c'è qualcosa Una cesta Io non chiedo tanto Io chiedo solo una cesta In quest'apocalisse zombie Chiedo solo delle ceste Con nuovi materiali Un maialino Un maialino Un maialino Ecco Grazie mille Ti prego Una cesta Ma c'è la porta qua Oppure bisogna Bisogna inventarla La porta Ah qua Salve Non posso E non posso Io vi chiudo qua dentro Perfetto Altri due al sicuro In teoria Gli altri sono Molto spazzati Se restano qua fuori Tu Oh Cos'è Chi è Chi è stato Che ha fatto Sto suono Cosa Commerci Fortuna Uno Mi servirebbe Ma io non ho tutte ste cose Qua dentro Ok un altro villager Cartografo Se ne sono un sacco Devo farmi un'altra cesta Allora intanto mettiamo a cuocere le cose Poi dovrò spostarle da qui assolutamente Ok vediamo Cuoci questo Mi cuoci questo Mi cuoci questo Io vorrei farmi delle armi però eh Oh posso cuocere anche questo Assurdo Allora Vediamo Cuociamo anche la carne Perché direi che ci serve la carne Ok Leather Lead Ingot Perfetto Allora cuoci 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 Copper Perfetto Mi cuoci anche Il pollo del tacchino Ok Prendiamo tutti questi lingotti Che voglio vedere Se posso fare qualcosa di interessante Ah la pietra normale Ma dai Allora Vabbè non cuocerlo Devi sprecarmi un lingotto Allora Vediamo 75 Dovrei riuscire a crearmi parecchie cose Vediamo Come ad esempio Cosa possiamo prendere Allora magari delle cesoie Sarebbe il caso di farcele Delle cesoie Ci prendiamo Che ne so Un po' di foglie Ci prendiamo un pochettino di foglie Eh Ok Poi vediamo cosa possiamo fare Cosa possiamo fare Che ci può servire Roba abbastanza inutile Per ora Abbastanza inutile Eh Questa non ce le ho per farle Abbastanza inutile Magari avere queste cose Non le abbiamo Eh Queste no Oh Sì Questo Eh ma come faccio Eh magari Allora serve Allora serve Per fare ad esempio L'arma più banale T'ho una pistola La pistola più banale Questa dai La Desert Eagle Vediamo Plastic Vediamo Gunmetal E come si fa E dove lo trovo Plastic plate Plastic plate Allora Vediamo Da qua Forse si trovano in giro Non lo so Gunmetal E dove cavolo E dove cavolo lo trovo Cioè guardate quante robe belle Che si possono fare Sacco di spade Di spadoni Di archi Io tutte ste cose dove le trovo Dove le trovo Tutte ste cose Perfetto Arrivano anche i mostri Non potevo essere più contento di così Allora Direi di fare Di mettere le ceste Tutte organizzate qua dentro Ecco Stanno anche arrivando Questi rompiscatole Allora Tanto qua non dovrebbero arrivare No Mettiamo Tutte le ceste qua dentro Non dovreste venire a rompere qua Vero Ok Mettiamo Allora mettiamo Organizziamo tutto Qua ci mettiamo tutti i lingotti Devo incantarmi Devo incantarmi Devo incantarmi Allora Vediamo Mettiamo tutte le cose preziose qua Così Perfetto Allora Vediamo Mi serve del bambù Io spero con tutto il cuore Di avere Se Vabbè Spero con tutto il cuore Di avere del bambù Eh volevo dire Delle canne da zucchero Che se l'abbiamo Uno due tre Ok Fammi La carta Non so perché l'ho fatta Ma non serviva Allora vediamo Ossidiana Un diamante E cosa serviva Cos'è che serviva Non mi ricordo Ah due diamanti Due diamanti Ok Scusate ma sono veramente Nel mio mondo In questa sopravvivenza zombie Perché sono Sono tanto Impaurito Ho paura Sempre che possono arrivare Da un momento all'altro Gli zombie Ok Tavolo degli incantesimi Perfetto Lapis Lapis Si sono Facciamo un altro piano Del tetto Sono fortunato Perché qua non passano Adesso Mi sento molto più a mio agio Molto più al sicuro Ok Direi che qua possiamo fare benissimo Un altro piano Ok voi continuate a morire Lì nella lava Mi raccomando Qua facciamo un altro piano Facciamo così Ok Perfetto Tanto gli zombie non volano Per ora gli zombie ancora Non hanno imparato a volare Quindi Eh ce ne sono tanti Si stanno un po' arrabbiando Bella faccia Gli zombie si stanno Un pochettino Arrabbiando Dai non rompete le scatole Andatevene via Ok Qua ci mettiamo Il nostro tavolo Tavolino Perfetto Anatema Chissà se ci sono Dei nuovi incantesimi Non lo so Allora direi Di mettere Allora Abbiamo una crafting Si Allora direi Di creare un sacco Di librerie Solo due Dai creamene un po' di più Sei Perfetto Ok Non possiamo farne altre Perfetto Si è messo a piovere Quanti ce ne sono Ce ne sono tanti Muoviamoci Ad incantarci tutti Bella faccia Altrimenti Vengono a rompere Le scatole Mamma Oh Che cavolo è stato Cioè se anche il temporale Mi vuoi dire Se anche il temporale Mi vuoi dire Perfetto Ok Perfetto Si sta avvicinando Un temporale Incredibile E quindi direi Di muoverci Ad incantarci tutti Ok Così Quanto mi dai? 12 Affilatezza 2 Non è male Allora Incantiamoci le corazze Prima Vediamo Protezione 2 Ok Protezione 2 Andato Corazza Protezione al fuoco Orribile 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 Dammi qualcosa di meglio Allora Io tutta Stacarne marcia Porca miseria Via Dai Dammi qualcosa di meglio Si sta anche avvicinando Un temporale Incredibile Protezione 2 Protezione 2 Ok La corazza Dai qualcosa di buono E protezione 2 Buono 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 Molto buono Molto buono Io direi di creare Anche un'altra spada Però Oh mio dio Ma State facendo Un baccano enorme Basta 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 No Le mie verdure Le mie verdure Maledetti Le mie verdure Questa spada si rompe Questa spada si rompe Le mie verdure No non ci arrivo Quella spada aveva una zittata lunghissima Allora Posso andare a dormire Che mi hanno rotto le scatole Buonanotte Dai una bella spadona Vediamo 3 7 Voglio quelle forti Questa Che cava 10 Martellone Mamma mia Causa Nausea Ricreiamo questa Vai Super spada Super spadona Ok Andiamo ad incantarla Vai vediamo Cosa mi dai Affilatezza 2 Vediamo cosa mi ha dato Affilatezza 2 Perfetto 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 Questo me lo può incantare Efficienza 2 Anche lui Che altro Un piccone Con efficienza 2 Va bene Va bene Va bene Va bene Buono 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 Molto buono Eccomi mostriciattoli Ho una spada Veramente forte Adesso Volete provarla Vi spacco in due Lo scudo Anche lo scudo Io voglio Sì Spikes Ok Ok Spikes Ok Perfetto Anche lo scudo Incantato Sì Ok Passiamo una prova Mio dio È super forte Oh sì Li distrugge Guardate che roba Gli fa un bel male Fa male La mia spada Fa male adesso Ma beccati Eeeh Calmi Lo scudo Mi sa che ha Spito Oh porca miseria Uno scuolo No Mio dio Uno scuolazzo Schifoso Oppure gli squali No io me ne torno dentro Io me ne torno dentro Col cavolo che sto qua Aprite Una porta Aprite Per favore Una porta Perché non avete fatto una porta Perché non ho fatto una porta Ok Direi che ci siamo comunque Adesso porterò Io però dovrei mangiare Sai com'è Io adesso faccio Metto tutte le cose preziose qua Metto tutte le cose preziose qua Perché voglio capire Come creare Le nuove cose Come ad esempio Nulla Qua non possiamo fare Nulla di interessante Chi è stato? Avete sentito? Ho sentito uno scricchiolio O sto impazzendo O sto impazzendo Bella faccia Perfetto Ok quindi Qui tutti i materiali E ci mettiamo anche le rune Queste cose strambe Che secondo me Sono molto rare Sta testa di cighiale Non so a cosa possa servirmi Poi magari qua Ci mettiamo tutto il cibo Ok Qua direi che ci mettiamo Tutto il cibo E ci siamo Siamo andati Veramente avanti Ci siamo riusciti Ad incantare tutti Tutte le cose Siamo riusciti Ad incantare Stiamo creando Un avamposto incredibile Ma io Sono certo Che a breve Arriveranno i mostri A distruggermi tutto E sono veramente In ansia Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Da Bella Faccia è tutto Mi raccomando Fate attenzione Perché l'invasione zombie È imminente Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.